Ciao a tutti! Oggi farò l'ennè alle mie sopracciglia con il nuovissimo Mina Eye Brown & Nedele Intus Valley. Innanzitutto delineo le sopracciglia con una matita bianca che mi servirà come linea guida per evitare di andare al di fuori e combinare pasticci. All'interno della confezione troviamo tre bustine monouso di ennè. Ne prendo una e dopo aver indossato i guanti, versò la polvere nel contenitore. Aggiungo un po' con la volta l'acqua e con un pennellino mescolo fino ad ottenere una pasta né troppo liquida né troppo solida. Sempre con l'aiuto del pennello vado ad applicare l'ennè sulle sopracciglia. Grazie a tutti! Aspettiamo il tempo di posa di 15 minuti. Bagno un coton fioc e rimuovo delicatamente. Il colore dura circa 15 giorni e il risultato è ottimo. Spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!